Buongiorno ragazzi, in questo video valutiamo il campo magnetico in due casi. Allora, il generatore è praticamente lo stesso, anche se sembra una cosa sbagliata, nel senso che noi abbiamo un filo infinito che nel caso A è stato piegato di 90 gradi e quindi cambia direzione, da orizzontale a verticale. Anche nel secondo caso abbiamo un filo infinito, vedete che ci sono i puntini puntini, geometra quando faccio i puntini puntini vuol dire che si estende all'infinito, solo che qui non è stato piegato di 90 gradi, ma percorre un quarto di circonferenza e poi continua in basso. Allora, trovare il campo magnetico nel punto C significa quindi capire chi genera questo campo magnetico. La risposta è semplice, il campo magnetico è generato appunto dai generatori di campo magnetico, vabbè, che sono i conduttori percorsi da corrente. Ovviamente noi sappiamo le formule di spire e di fili, ma anche di fili finiti e infiniti e anche di spire, che quando nel video teorico delle spire ho detto, anche quando vengono valutati nel centro, il contributo del campo magnetico nel centro alla fine è proporzionale alla lunghezza dell'arco di circonferenza. Cioè, se io ho un quarto di spira, semplicemente il campo magnetico è un quarto del valore del campo magnetico che verrebbe generato se questa spira fosse, diciamo, completa. Quindi la formula diventa molto facile, non bisogna usare la prima formula di Laplace per ritrovare un quarto di circonferenza e rifare tutto l'integrale. Ma andiamo con calma. Direzione e verso. Allora, nel caso A io ho due generatori. Ho il filo, diciamo, orizzontale e il filo verticale. Per quanto riguarda il filo orizzontale, qual è la direzione verso del campo magnetico, appunto, del filo orizzontale nel punto C? Regola del cacciavite. Metto il pollice in modo orizzontale, e mi accorgo che, diciamo, sopra di lui il campo esce, poi si ripiega ed entra. Quindi, in questo caso, è come se fossimo sotto di lui e quindi entra. Andiamo quindi a disegnare, diciamo, questo è il campo che chiamiamo orizzontale dovuto al filo orizzontale. Il filo verticale, cioè questo, che campo crea? Allora, pollice verso il basso, questa volta, regola del cacciavite è fondamentale, pollice verso il basso, e mi accorgo che alla sua sinistra entra, mentre alla sua destra esce. Allora, qui siamo alla sua sinistra, e quindi entra. Quindi, diciamo, entrambi i generatori creano un campo magnetico con la stessa direzione e lo stesso verso. Questo vuol dire che i moduli effettivamente possono sommarsi tra di loro. Andiamo a vedere il secondo caso. Qui, ragazzi, abbiamo tre generatori. Allora, abbiamo il filo orizzontale, che abbiamo già visto che crea una cosa del genere, il filo verticale che crea una cosa del genere, ma anche il pezzettino di spira, usando sempre la regola del cacciavite al contrario, genera un campo entrante. Questo perché, visto che la rotazione è oraria, vedete che automaticamente andiamo a generare un campo entrante. E quindi, come potete vedere, anche in questo caso, direzioni e verso sono uguali, i moduli si possono sommare. È un caso? No. Perché se uno guardava e concepiva tutto il generatore come un generatore unico, questo comunque aveva un suo verso. Guardate. Il verso è così, della corrente. E anche in questo caso. Quindi, entrambi seguivano la regola del cacciavite complessiva di una spira, anche non circolare, però, dove il verso era comunque orario. E cosa genera dal punto di vista complessivo una rotazione oraria di corrente? L'ho appena fatto. Oraria di corrente, un campo entrante. Quindi io potevo già dire, senza dividere in tutti i generatori, che il campo magnetico totale era entrante. Comunque, va bene. Spero che quindi ci siano tanti modi in questo esercizio per capire se il campo magnetico complessivo era entrante o uscente. Comunque, tutti i contributi sono tutti entranti. Allora, andiamo a vedere, ragazzi, quanto fanno questi contributi qui. Ci mettiamo, quindi, nel caso A e cominciamo i conti. Faremo il caso A e poi il caso B. Prima di tutto vi faccio vedere che, visto che la corrente è I e l'unica distanza è D, io so già, in questi due casi, che il modulo del campo magnetico, anzi, posso dire di più, non solo, ragazzi, del modulo, ma dal punto di vista vettoriale posso già dire che il campo magnetico sarà fatto così. Dal punto di vista vettoriale sarà un meno Z, perché è entrante, e poi, dal punto di vista, sapendo le dimensioni, visto che va sempre come un mui fratto una distanza, sarà fatto così. mu per I, proprio questa corrente qua, fratto l'unica distanza che esiste che è D, per un certo coefficiente. Lo chiamiamo K del caso A. Questo valore, ovviamente, sarà positivo, perché il segno è dato dal verso. Nell'altro caso, visto che l'unica distanza in gioco è D, dal punto di vista letterale, la corrente è I, sarà un meno KB per mui fratto D. Quindi il nostro scopo è semplicemente trovare il valore di K KA è il valore di KB e sono dei numeri, ok? Perché dal punto di vista dimensionale è come se avessi esautorato mettendo queste quantità qua. Spero che questo sia chiaro, ok? Il nostro scopo è solo trovare due valori numerici, KA e KB. Tra l'altro, io vi so dire un'altra cosa, è più grande KA o KB? Attenzione, sono numeri positivi, ci danno l'idea dell'intensità del campo magnetico. Allora, se uno ha studiato bene, sa, ma, però è che si può vedere anche occhio, che KB è maggiore di KA. Semplicemente perché mediamente, nel caso B, il punto C è mediamente più vicino ai generatori. E questo si osserva, ovviamente, guardando questa parte qui. Ok? In questo caso, questo arco di circonferenza è più vicino al punto C rispetto a questi. Quindi, ovviamente, più sei vicino al generatore, più il campo è intenso. Quindi, vedete già quante cose so senza aver fatto niente, ma solo un discorso vettoriale. Andiamo quindi nel caso A. Allora, adesso qui bisogna essere bravi perché ovviamente questo è un filo finito, quindi, devo andare a collegare i connettori. Allora, qui la direzione, vedete, è infinita, quindi significa che non posso fare così e descrivere un angolo, ma semplicemente, essendo infinita, vuol dire che il connettore è parallelo al filo, non si praticamente collegherà mai, è infinito. Mentre qui, il connettore finisce qui, vedete, quindi devo fare così. Poi devo tracciare la distanza, andare a collegare il connettore 1 al connettore 2, quindi così. Questo ci dà il verso positivo con cui prenderemo gli angoli, che adesso vado subito a chiamare, però i due angoli sono molto facili perché dal connettore 1 alla distanza questo angolo è di 90 gradi, mentre questo qua, ovviamente, visto che questo è un quadrato, quest'angolo è di 45 gradi, quindi quando c'è un quadrato, metà quadrato, è molto facile che gli angoli siano di 45. Bene, allora vado subito a fare la formula per trovare il campo magnetico generato da questo filo semi-infinito, quello orizzontale. Allora, dal punto di vista del modulo, questo campo magnetico, diciamo, nel caso A, fatto da quello orizzontale, il modulo quindi è, allora, qual era la formula, ragazzi? Era mu per i fratto 2pi greco per la distanza, che qui è effettivamente di, per, sarebbe il seno del primo angolo che era 90 più il seno del secondo angolo che era 45 fratto 2. Allora, il seno di 90 fa 1, il seno di 45 gradi fa radice di 2 su 2 e lo teniamo così. Sempre nel caso A, il campo magnetico fatto da quello verticale è uguale. Ve lo fa, ve lo mostro, però, come bisognerebbe fare? Bisognerebbe collegare, adesso bisognerebbe staccare questi, perché non sono serviti per il primo filo, e poi cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe fare il connettore 1 che adesso diventa questo, questo è il connettore 2 perché ovviamente bisogna guardare dove va la corrente. Questa volta, vedete, per partire da C e arrivare alla fine del secondo filo devo fare 90 gradi, traccio la distanza e allora questa è la direzione positiva per cui prendere gli angoli, comunque questa è 45 gradi e questa è 90. E allora non cambia niente perché tanto fare seno di 90 più seno di 45, seno di 45 più seno di 90, quindi sono uguali. Quindi, posso subito dire quanto vale dal punto di vista vettoriale il campo nel caso A? Certo, perché vale il doppio di questo qui. Quindi, mi basta moltiplicare per 2, ok? Perché avendo stessa direzione e verso posso sommare i moduli in questo caso e quindi viene allora meno z sarebbe mui fratto 2 pi greco di per una quantità numerica che è 1 più radice di 2 su 2. E io cosa avevo detto? Guardate, che il campo magnetico nel caso A sarebbe stato qualcosa proporzionale a mui fratto d per un numero. Il numero ovviamente è questo. Ok? Quindi, vado subito a dire che kA, cioè questo numero che ci dà un'idea sull'intensità, allora sarebbe quindi 1 più radice di 2 diviso 2 diviso 2 per pi greco e viene un kA pari, ripeto, ci dà un'idea dell'intensità, 0.272. Caso B. Il caso B è paradossalmente quasi più facile di calcolare il caso A. Perché? Allora, se noi andiamo ragazzi nel caso B, i generatori finiscono ovviamente, cioè il filo rettilineo finisce qua e qua. Allora, quindi se vado a disegnare i connettori, questa volta non ho un angolo di 90 e un angolo di 0, ma ho, allora, se guardo il primo generatore orizzontale, allora il primo connettore ovviamente va infinito perché il filo è infinito. e il secondo connettore visto che finisce qui va qua e fa 0 gradi con la distanza, quindi un angolo è di 90 e un angolo è di 0. La stessa cosa, un po' anche per simmetria, succede qua, ok? Quindi, nel caso B ho tre generatori, ho il filo orizzontale, il filo verticale e il quarto di spira, ma io posso già dire che nel caso B, allora il modulo di quello orizzontale è uguale al modulo di quello verticale, ok? Intanto, per simmetria e dico che vale allora mu i 2 pi greco di per il seno di 90 più il seno di 0 fratto 2 il seno di 0 fa 0, il seno di 90 fa 1 attenzione che poi vabbè dovrò sommarli tra di loro comunque l'idea è che il risultato è mu i fratto 2 per 2 fa 4 quindi 4 pi greco di in modulo adesso mi manca solo il campo magnetico del un quarto di spira ma io so benissimo qual è la formula della spira ok? se la spira è completa sarebbe mu i fratto il doppio del raggio allora questa volta il raggio quanto vale? ma è semplice ragazzi guardate il raggio è di quindi qui ci metto effettivamente di solo che il risultato ovviamente va diviso per 4 perché io ho un quarto di spira attenzione che dividere per 4 è come moltiplicare per un quarto quindi non è che il 2 e il 4 si semplificano e viene mu i fratto 2 per 4 fa 8 d possiamo quindi trovare il modulo del campo magnetico totale ma anche scrivelo dal punto di vista vettoriale tanto visto che la direzione e il verso sono uguali perché tutti questi tre campi erano entranti il modulo del campo totale è la somma dei moduli solo in questo caso quindi visto che il campo totale era entrante è fatto subito un meno z e poi cosa faccio intanto devo ricordarmi che ho due generatori identici quindi questo contributo va raddoppiato allora quindi sarebbe un meno due volte il contributo dei fili rettilinei più mu i fratto 8 d visto che io so già qual era la forma perché la forma era un meno mu i su d per un kb z allora io faccio la stessa cosa cioè adesso vado a trovare quanto vale questo kb e verificare che sia maggiore di 0.272 allora meno z raccolgo un mu i su d così trovo il mio kb intanto semplifico questo 2 con questo 4 e allora cosa rimane avendo raccolto un mu i su d qui rimane qui sotto un 2 allora cosa cosa manca allora c'è questo 1 su 2 pi greco questo 1 su 8 quindi viene 1 su 2 pi greco più 1 su 8 e questo ragazzi è il mio kb che dovrà essere maggiore di 0.272 vediamo andiamo a trovare questo kb il risultato ovviamente il calcolo era finito però visto che siamo più vicini al generatore voglio anche verificare questa cosa qua quindi un ottavo beh sono molto contento perché risulta 0.284 ok in realtà questi due campi quindi non sono così diversi tra di loro però ovviamente kb è un pochino più maggiore quindi il campo è un pochino più intenso nel caso b rispetto al caso a come avevamo detto che è un pochino Grazie.